Giovedì 29 settembre, buongiorno, bentrovati alla prima edizione del nostro telegiornale della Rassegna Stampa in regia Massimiliano Chiocchio. In apertura il clamoroso colpo di scena nell'attribuzione dei seggi al Molise dopo le elezioni politiche. Il Ministero dell'Interno, con i dati aggiornati sul sito Eligendo, ha modificato gli eletti in regione alla Camera. Non c'è più il nome di Caterina Cerroni del PD e al suo posto risulta eletta al proporzionale Elisabetta Lancellotta di Fratelli d'Italia. Il servizio con le ultime novità è l'intervista all'Ancellotta di Enrico De Simone. Vediamo. Clamoroso colpo di scena nell'attribuzione dei seggi parlamentari molisani dopo le elezioni politiche. Il Ministero dell'Interno, tramite i nuovi dati aggiornati del sito Eligendo, riporta l'assegnazione del seggio proporzionale della Camera dei Deputati alla candidata di Fratelli d'Italia Elisabetta Lancellotta. Scompare il nome di Caterina Cerroni, candidata del Partito Democratico a cui era stato assegnato in precedenza il posto. Mancano 21 sezioni, quindi diciamo che ci siamo quasi. Questa altalena di emozioni è grande e deriva da questa legge elettorale, che come ho detto precedentemente è una legge che a mio avviso andrebbe modificata. Però, insomma, mancano ancora 21 sezioni, ci siamo quasi. Dedico ovviamente questa vittoria a tutti i molisani che hanno creduto in me, a tutto il Molise, a tutti i cittadini del Molise. Lavorerò per voi rappresentando le stanze del nostro territorio a Roma con forza e determinazione, mantenendo tutte le promesse che noi abbiamo fatto in campagna elettorale, e girando ogni singolo comune. Dedico questa vittoria a voi e alla fiducia che voi avete voluto accordarmi. Grazie a tutti di cuore. Si tratterebbe di un risultato a tutto campo, quello ottenuto dal centrodestra, che oltre all'elezione di Lorenzo Cesa alla Camera, Claudio Lotito e Costanzo Della Porta al Senato, conquisterebbe anche il quarto scranno molisano. I dati sono ancora ufficiosi. Il sipario sulle elezioni calerà unicamente nelle prossime ore, quando saranno concluse le verifiche sulle ultime sezioni nazionali. Dunque, chiuse le elezioni politiche, parte la marcia di avvicinamento alle regionali del 2023. Tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è partita la fase di disgelo necessaria a scalare i vertici della regione. Posizioni tuttavia diametralmente opposte separano i due partiti. I 5 Stelle rivendicano la leadership di una eventuale coalizione. Il PD, oltre ai pentastellati, guarda anche al centro. Ci dice di più in questo servizio Pasquale Di Bello. Prove tecniche di disgelo tra Movimento 5 Stelle e PD. Archiviate le elezioni politiche, i due partiti guardano alle prossime elezioni regionali. Differenti punti di partenza, dividere le due formazioni e il tema della guida di un'eventuale coalizione, ammesso che si possano riattaccare i cocci di un matrimonio fallito sull'altare. A parlare per i 5 Stelle il capogruppo in regione Andrea Greco, con sette punti percentuali in più rispetto al PD, dice la guida della coalizione è nostra. Chi vuole dialogare con noi, aggiunge, deve riconoscere questo punto di partenza, altrimenti ognuno per la propria strada. L'errore che ha fatto Letta a livello nazionale è di non tenere presente certe dinamiche. Non vorrei che qui in Molise si ripeta il medesimo errore, magari per i personalismi di qualcuno sarebbe un grosso errore. Ma io credo che le primarie vanno fatte nel momento in cui c'è incertezza rispetto a quello che vogliono i cittadini. Credo che questo sia lampante. Nel caso in cui c'è un dubbio rispetto a ciò che vogliono i cittadini, allora si va alle primarie. Il Movimento 5 Stelle ha preso sette punti percentuali in più rispetto al PD. Abbiamo staccato l'intera coalizione di centrosinistra di tre punti. Questo significa che è chiaro ed evidente che la leadership all'interno di un'eventuale coalizione spetta al Movimento 5 Stelle. Io lo dico anche proprio per i militanti del Partito Democratico. Non ci sarebbe nemmeno da discutere. Credo che questa cosa ci porterebbe senza ombra di dubbio al Governo della Regione. In caso contrario, non solo il Movimento perderebbe gran parte dei suoi consensi, ma non arriveremmo a governare la Regione. E io sinceramente vorrei arrivare a governare e una volta il Governo avere le mani libere per poter cambiare la storia di questa Regione. Più morbida è la posizione del segretario regionale del PD, Vittorino Facciolla. Quella dei 5 Stelle dice che è una rivendicazione legittima, ma il dato delle politiche non può essere assimilato alle regionali. Siamo continua in una condizione di parità. Le primarie, secondo Facciolla, che pensa ad un'alleanza PD-5 Stelle centristi, potrebbero anche essere non necessarie. Un accordo sulla leadership, secondo il segretario, può anche essere trovato con un tavolo politico. Mi sembra legittimo che il Movimento 5 Stelle rivendichi una posizione di privilegio. L'altro ieri si è votato in Sicilia. Lo stesso giorno in cui si è votato per le politiche si è votato per le regionali. Il 27% degli elettori siciliani alle politiche hanno votato il Movimento 5 Stelle. Lo stesso giorno hanno votato per le regionali il Movimento 5 Stelle il 16%. Le elezioni politiche non hanno nulla a che vedere con quelle regionali, né con le amministrative. Altrimenti io dovrei considerare il dato di Sernia, che vede 5 Stelle, al 3,5%. Il dato di Termoli, che non li ha portati al ballottaggio. Il dato di Agnone, dove il PD e il 100% stanno vinto abbondantemente. Ogni elezione ha una storia a sé. Quelle politiche del 2018 hanno fatto riportare al Movimento 5 Stelle il 45% dei voti. Dopo un mese hanno preso il 38,5%. 6,5 punti in me. Capisci bene che, o si capisce bene, che l'erradicamento sul territorio, nelle elezioni di territorio, conta. Ed il PD, in questo senso, come è legittimo per il Movimento 5 Stelle rivendicare un suo diritto ad avere la leadership, certamente lo farà il PD e il centrosinistra. Questo è fuori discussione in una condizione, dal mio punto di vista, assolutamente paritaria. Se ci dovesse essere un tavolo tra più partiti, ci potrebbe decidere anche a maggioranza. Ma io credo che, quando noi avremo chiuso l'accordo sui programmi, sul programma, avremo fatto già un grosso passo in avanti. In questo momento la Regione Molise non ha bisogno del protagonismo dei singoli. Prosegue il lavoro della Regione per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Dei 190 interventi finanziati, 94 risultano conclusi e 96 sono in corso di realizzazione. Delle risorse assegnate sono state riversate nella contabilità speciale intestata al commissario Toma, oltre 53 milioni di euro. I pagamenti effettuati al 20 settembre ammontano a più di 35 milioni. Inoltre, spiega il Presidente della Regione, sono in corso le progettazioni di ulteriori 21 interventi finanziati con quasi 3 milioni e mezzo di euro e che rappresentano le basi dei prossimi interventi. Adesso i dati del Covid con il bollettino diffuso ieri sera dall'azienda sanitaria regionale. Sono 143 i nuovi positivi riscontrati in Molise su 543 tamponi rifertati. Tasso di positività che sale al 26,3%. 34 i contagiati di Campobasso, 26 di Termoli, numeri inferiori negli altri comuni interessati. Da registrare anche 224 guariti e un ricovero in malattie infettive. Salgono così a 7 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli. Gli attualmente positivi in regione sono 3.659. E con questa notizia terminiamo la prima edizione del telegiornale. Adesso uno sguardo a quotidiani locali e nazionali. Siamo sul giornale del Molise. Evidenza questa notizia. Clamoroso colpo di scena. Il Ministero dell'Interno toglie il seggio alla Cerroni e lo assegna a Lancellotta che vediamo in questa foto. Più in basso, io ti ammazzo. La maestra Violenta aveva già chiesto il trasferimento e ora è fuori regione il caso Isernia. Dagnone invece riapre il laboratorio analisi. In consiglio regionale passa la mozione di Aida Romagnuolo. Poi il Covid, 143 nuovi positivi, un ricovero e 224 guariti. Vediamo qualche altra notizia. Monsignor Bregantini dopo l'operazione dice sto bene, grazie a tutti per la vicinanza. Mentre a Campobasso il Comune ottiene 900 mila euro per realizzare un impianto sportivo polivalente da fondi del PNRR. Ci spostiamo su primo piano. Anche qui l'apertura è su questo caso. Clamoroso errore del Viminale. Lancellotta è letta alla Camera. Il colpo di scena ieri pomeriggio. Cerroni del PD, deputata per un giorno. Quarto seggio, Molisano dunque ha segnato al centro-destra. La sfida finisce 4-0. Emozionata la neoparlamentare dice lavorerò duro per ricambiare la fiducia di chi mi ha sostenuto. Di spalla alcuni dati relativi alle elezioni. 8.785 schede bianche e nulle. Crollo verticale dell'affluenza. Meno 21% in nove anni. Il punto oggi a firma di Sergio Genovese è correlato alla politica, alle elezioni. Fine dello spettacolo è il titolo. A centro pagina adesso. Caso Scarabbeo. I serni a futura pensa al rimpasto. Il PD tenta la mediazione. Fibrillazioni a Palazzo San Francesco. La restituzione delle deleghe ha scosso la politica locale. Martedì sera il conclave. Attesa la decisione del sindaco Castrataro. Più in basso un milione del PNRR per salvare i giovani di un quartiere difficile. Finanziato il progetto dell'amministrazione di Campobasso. L'impianto polivalente sarà realizzato a Fontana Vecchia. Di taglio basso Bregantini ringrazia per la vicinanza. Grande dimostrazione d'affetto. Il Vescovo parla dal Neuromed. Messaggi dice anche da chi non mi aspettavo. Siamo sugli altri richiami. Da Colletorto, campo sportivo, assolto l'imprenditore e il RUP. Li aveva denunciati il sindaco. Mentre le notizie arrivano dall'Alto Molise. Il viadotto sente chiuso da quattro anni. Il problema è la rassegnazione. È stato detto. Andiamo a vedere le notizie sportive. Serie D. Il Termoli porta a casa il primo punto. Pari senza gol per il vasto Girardi. In eccellenza. I lupi calano il poker a Castel di Sangro. Di Sernia, Doma il sesto. Sempre nel campionato regionale d'eccellenza. Alto Casertano ok con la Turris. Esultano Guglionesi, Boiano e Venafro. Dalle notizie del Molise al quotidiano abruzzese. Il centro. Vediamo l'apertura. Abruzzo. Dieci appelli al governo. Crisi, bollette, famiglie e scuola. Ecco le richieste del nuovo esecutivo di centrodestra. E letti c'è il colpo di scena. Anche qui, dentro Sottanelli di Italia Viva Azione, fuori di Padova del PD. In alto, Abruzzo, altra vittima sul lavoro. Siamo a Notaresco. Un operaio di 52 anni precipita mentre monta pannelli fotovoltaici. Altra pagina provinciale del centro dove, di taglio medio, leggiamo questa notizia. Nuovi vaccini, c'è il via libera della regione a tutti gli over 12. Restiamo sempre sul quotidiano abruzzese. con la notizia sportiva. Abruzzo, protagonista del Giro d'Italia 2023. La carovana rosa partirà dalla costa dei Trabocchi. E adesso l'informazione nazionale. Partiamo con Repubblica. Il ricatto di Salvini. Trattativa sull'esecutivo. Titola il quotidiano di Maurizio Molinari. Finisce male il primo vertice tra Meloni e il segretario del Carroccio. La Lega pretende il Viminale per il suo leader. Altrimenti sarà appoggio esterno. E questa frase è virgolettata. Il Ministero dell'Interno sbaglia nell'attribuzione di alcuni seggi. Abbiamo visto anche il Molise coinvolto in questo. Bossi viene eletto. Giornata dell'aborto sicuro. Manifestazione in tutta Italia a difesa della legge 194. La Nadef, il prodotto interno lordo, frena nel 2023 allo 0,6%. Ma Draghi lascia un tesoretto da 20 miliardi. Chiudiamo Repubblica per vedere anche la prima del quotidiano libero. sfilata contro la Meloni piccole donne. Per la prima volta nella storia di Palazzo Chigi non siederà un uomo e invece di festeggiare le femministe vanno in piazza a protestare. In alto leggiamo ecco le prove del voto di scambio grillino. Dove ci sono i percettori di reddito, i 5 stelle vanno forte. Da libero al tempo paghiamo il conto di Zingaretti, una multa della Gcom, Zingaretti il governatore del Lazio, che è stato sanzionato per la campagna elettorale a spese della regione, ma sarà lente a dover saldare il dovuto dal neoletto DEM. Intanto scatta la rissa nel PD, è iniziato il dopoletta, tutti vogliono fare il segretario, scrive il quotidiano del capitale. Adesso il fatto quotidiano. Prima mossa, guerra ai poveri e al sud. E per il quotidiano di travaglio smantellano il reddito, mentre l'Unione Europea raccomanda. va rafforzato il piano di Meloniè e compagni, nella prima legge di bilancio, via il reddito di cittadinanza, chi rifiuta un solo lavoro, ovunque sia. E poi ci sono altre notizie e altri richiami sul fatto quotidiano di oggi. Il Corriere della Sera. Governo, tensioni sul Viminale. La Cassazione corregge l'elenco degli eletti, Bossi torna in Parlamento. Stime riviste, intanto frena la crescita. Incontro tra Meloni e Salvini. La Lega chiede il Ministero dell'Interno per il proprio leader ed evoca l'appoggio esterno. Di taglio centrale, gasdotto sabotato, scambio di accuse, Mosca contro gli Stati Uniti. Si parla del gasdotto, del Nord Stream. Danni irreparabili. E poi questa notizia di cronaca. Il giallo del professore ucciso nella cortile della scuola. Siamo nel napoletano. Era insegnante di sostegno. Interrogato un vidello. Il mattino. Apertura politica, anche per il quotidiano di Napoli. Meloni e Salvini. Prove d'intesa. Vertice per il governo. Il nodo resta il Viminale. Per il leghista. Ipotesi, invece, il Ministero del Lavoro. Il Ministero dell'Economia e della Finanza spunta Siniscalco. Nordio, una costituente per cambiare le carte. Andiamo a centropagina. Qui si parla del professore ucciso a scuola. Il giallo della chat. Bidello in caserma. Insegnante di sostegno accoltellato. Prima di sparire, aveva chiesto a un collega come inviare la posizione dal cellulare. E poi, Maria Sole, un fischietto da serie A. La Caputi, designata per Sassuolo-Salernitana, è la prima donna. Poi vedremo questa notizia anche sulla Gazzetta dello Sport. Intanto, siamo sul manifesto. Tutto a posto, niente in ordine. Il governo Draghi approva la nota di aggiornamento al DEF, il documento di economia e finanza. Crescita migliore di quanto previsto, ma solo per il 2022. Oggi arriva la stancata sulla bolletta e poi tutto il quadro peggiorerà, secondo il manifesto. Braccio di ferro, Meloni Salvini sui ministeri. Il leader della Lega punta i piedi sul Viminale. È nostro e chiede anche il digastero della giustizia. Via di mediazione, titolo che apre l'edizione di oggi di avvenire. Il Papa rivela, dice, ho contribuito a far liberare 300 prigionieri. Pacifisti a Kiev, obiezione di coscienza. Il voto falsa sancisce l'annessione a Mosca delle zone occupate. Ancora duello intanto sul gasdotto sabotato. Più in basso, Meloni si trova un tesoretto da Draghi. Nadef con 10 miliardi in più per il nuovo governo. E poi c'è il caso dei riconteggi. Abbiamo visto che hanno, in questo caso, interessato anche il Molise. Sole 24 ore. Giustizia. Importo le riforme del PNRR. Dopo i pareri delle Camere. Via libera finale del Consiglio dei Ministri ai tre decreti attuativi. Revisione del processo civile e di quello penale. Nuovo ufficio del processo. Uno sguardo alla stampa, sussidi e bonus, i tagli della Meloni. Dunque, via libera alla Nadef. Intanto il prodotto interno lordo rallenta, più 0,6% nel 2023. Migliora il deficit. 10 miliardi in più contro il caro Energia. Leggiamo ancora Tregua, Fratelli d'Italia, Lega. Le richieste di Salvini, vice premier e agricoltura. Buongiorno alla giustizia. Bossi ripescato. Questo è il titolo di apertura della stampa. La verità, invece, scrive così oggi. Se la manovra è già scritta, la Meloni ha le mani legate. Ed è il vero banco di prova. La transizione può diventare il pretesto per ingabbiare il governo. L'unica Giorgia buona sarebbe un letta in gonnella, Ligia ai diktat dell'Unione Europea. Un rischio che lei e gli alleati devono evitare per non vanificare il voto. E ancora, leggiamo sulla verità, primo incontro, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia sull'esecutivo. Ancora buio sui ministri. Più in basso, l'intrigo del gas nel Baltico avvicina la guerra totale. Mistero sul sabotaggio al gasdotto. Possibili danni irreparabili. Gli Stati Uniti invitano a lasciare Mosca, Bulgaria e Polonia in allarme. Il secolo d'Italia, Palazzo Chigi smentisce, dice, nessun patto tra Draghi e Meloni. Mentre in basso, basta bugie, smentite subito le fake news dei giornaloni che riguardavano Meloni. E più ancora, i social sono stati determinanti per la vittoria di Giorgia Meloni. Adesso lo sport sulla Gazzetta. Scriniar, ecco i soldi. Zhang ai dirigenti, dice, deve restare all'Inter. Il presidente, con gli oltre 100 milioni di finanziamento, dà l'ok per prolungare con il difensore e respingere così il Paris Saint-Germain. Tanto per Lukaku, altro rinvio, salta anche la Roma e rischia pure la partita contro il Barça, contro il Barcellona. In basso, Milan per Leao, ne servono 65 la trattativa. La società fa i conti, quanto costa tenerlo. E poi dicevamo, ci sarà l'esordio della prima donna in Serie A, arbitro. Una storica prima volta la donna della domenica. E' Ferreri Caputi, che arbitrerà Sassuolo, Salernitana. Bene, anche oggi con la Gazzetta terminiamo l'appuntamento con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata. Arrivederci. ropoETnernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernerner